allora bella gente guardiamo la follia dei prezzi anche nei bar pasticceria cappuccino classico vabbè classico cosa vuoi che sia cappuccino degli astronauti che sono andati sulla luna oppure di yuri gagare in quello che è andato nello spazio con la navicella russa non lo so io cappuccino classico ok un euro 60 io mi ricordo che fino a qualche anno fa tipo due tre anni fa il cappuccino costava un euro 40 un euro e venti è aumentato un euro 60 latte macchiato nero 90 mi ricordo che latte macchiato costava un euro 50 anche un po meno cioccolato bianco e una brioche la brioche nero 70 io mi ricordo che i brioche costavano 90 centesimi bella gente la bella erina che grossa tipo 5 cm per 5 in forma rotonda 5 euro cioè io sono senza parole 5 euro una bella elena cioè non so fosse stata una donna diceva beh 5 euro è a prezzo ultra scontato poi si chiama bella elena per uno che è singolo dice beh è una bella donna di nome elena 5 euro anzi costa niente proprio una donna a prezzo stracciato ma per una torta che è la mia preferita 5 euro insomma c'è da piangere 5 euro la bella elena cioè io non so 10 euro il totale 10 euro 20 in due e poi lì va beh lì va c'è sempre ormai quella vabbè quelli sono i regali che facciamo noi del popolo comunque è una cosa vergognosa qui al nord tutto aumentato ma penso in tutta italia cosa ne pensate voi bella gente ma a me mi sembra che i prezzi sono veramente folli e finché c'è gente che compra questi qua se la profiteranno sempre che devo dire viva l'italia degli onesti oh